Il passivo è troppo pesante per quello che si è visto, però credo che le convinzioni di una squadra portino a questo, cioè io ho visto una Juve molto convinta, magari se questa partita si fosse giocata l'anno scorso poi sarebbe finita con una vittoria magari sì, però più appunto cortomusista. L'anno scorso comunque hai vinto 1-0 a Lecce, gol di Fagioli, te l'ha risolto con una giocata. L'anno scorso invece in una fase positiva è capace di tutto, al di là poi delle capacità del giocatore che non si discutono, neanche quando prende il filotto negativo. Qualcuno ne ha messo in discussione però. Ma c'è anche gente che ha discusso Lautaro Martinez. Ogni anno è così, ogni anno c'è la punizione, per chi non capisce un cazzo di calcio, Lautaro e poi Vlaovic. Sì sì, soprattutto con gli attaccanti succede questo purtroppo, però lui e tutta la Juventus in questo momento sono in una fase positiva, quindi partite bloccate, perché poi sulla carta ieri parlando anche con altri juventini, il pensiero comune era questa è una partitaccia contro un avversario chiaramente inferiore, però è una di quelle trasferte che poi se uno non sblocca rischiano di diventare particolari, che possono finire in qualsiasi modo. Poi appunto la partita ha detto altro, però prima del fischio d'inizio questa sensazione che potesse essere una trasferta trappola c'era secondo me, almeno io l'ho vissuta così. Però appunto dopo un primo tempo di studio in cui il Lecce si è chiuso bene, ha provato qualche rivartenza, c'è stato qualche piccolo momento in cui la Juve poteva essere in vantaggio, penso soprattutto al salvataggio di Christovic su McHenny, che in questo periodo sta anche andando molto vicino al suo primo gol in stagione, ma per vari motivi non lo sta trovando, o per demeriti suoi, come a Salerno, o per poi di fatto il Duvini-Blaovic. Sì, o Christovic gli salvò il gol, situazioni assurde. Ha un underperformance clamorosa da questo punto di vista, non saranno contenti i suoi fanta allenatori, però già se hai preso McHenny comunque sia un grande inizio anno. Beh, perché poi a prescindere dallo zero nella casella gol, sta facendo una stagione pazzesca. Cioè, perché comunque ha fatto vari assist, credo abbia toccato coda cinque assist almeno. Perché mi sembra che era a quattro prima di questa partita, quindi credo che abbia raggiunto l'assist. Ho appena verificato, ha due punto novantacinque expected goal complessivi, zero gol. Quindi arriverà però, è nell'aria il gol di McHenny. Sì, perché comunque le occasioni le ha, spero per lui e per la Juve che possa arrivare, però allo stesso tempo c'è il discorso dei gol dei difensori, perché anche ieri ha segnato un difensore. Bremer è uno dei migliori colpitori di testa del campionato. Sì, siamo in live da Ried per la Supercoppa. Esatto, esatto. E comunque, Bremer rimane uno dei migliori colpitori di testa, sia dal punto di vista difensivo che offensivo. E anche ieri ha giocato una grande partita, perché a prescindere dal gol, la fase difensiva della Juve mi ha soddisfatto. Soprattutto Bremer, che l'ho visto anche più capace di guidare il reparto. Mentre prima era Danilo, fondamentalmente, lo è ancora il leader della difesa, però dal punto di vista proprio tecnico e interpretativo della fase difensiva, Bremer sta raggiungendo dei picchi veramente alti. E allora ti faccio una domanda. E allora voglio esagerare. Vai. Bremer, per te, in questo momento, è il miglior difensore del campionato? Mi sa che l'avevo accennato pure nell'ultima live che abbiamo fatto insieme. E avevo detto che era il miglior centrale del campionato, quindi... Me l'avevo scordato, questo è un piccolo... No, 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 l'avevo detto veramente al volo. La grande domanda. No, ora messa così, insomma, ci sto pensando, però secondo me sì, perché è veramente completo, gli manca qualcosa al punto di vista tecnico, nel passare la palla, eccetera. Sono curioso di sapere per Giacomo chi sia. Secondo me, per rendimento sì. Sì. Come livello io ci metto davanti altri... Cioè, per me... Ora, questo è un'altra Un Popolo Opinion sulla Un Popolo Opinion, nel senso che per me il migliore, per livello, è l'ultimo che pensereste, perché per me... No, l'ultimo non lo so, però per me il migliore è Bastoni, che è uno molto comunque criticato, perché sì, però non so difendere, stai cazzate solite. Bastoni con la palla 3 piedi, 10 volte Bremer. Però, cioè, Bastoni può giocare al Manchester City, Bremer il dubbio mi viene, capito? Quindi il discorso è questo. Anche Buongiorno, per carità, Buongiorno sì, però chiaramente è più facile valutare il lavoro che fai in una big, e poi lavorare con Juric, diciamo, anch'io sembrerei Beckenbauer, come diceva in un altro commento ieri, per cui, vedi, ah, Buongiorno poi mi piace tantissimo, su questo sono d'accordo, però, diciamo, Buongiorno è il miglior italiano per rendimento, ecco, su questo possiamo essere abbastanza d'accordo, come centrale, cioè non mi va in mente nessun altro. L'unica cosa di Buongiorno è che, lo so che questo discorso è relativo, però non c'è la controprova in una big, mentre Bremer comunque sta giocando nella Juve. Ma big perché, da una parte, sei più aiutato, secondo me perché hai compagni di livello che ti possono aiutare, però il salto mentale non è facile, quindi Buongiorno lo vorrei vedere perlomeno all'Atalanta, per esempio, che comunque storicamente non era una big, però in questa fase è una squadra importante in Serie A e vorrei vedere l'approccio a squadre di alto livello, diciamo, ecco. Se non me ne vogliono i tifosi del Torino, ecco. No, 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 io poi spero rimanga il Toro comunque per quel discorso lì, però un salto al Milan sarebbe interessante. Detto questo, i commenti confermano quello che dicevo sul fatto che sia abbastanza impopolare questa roba qui, ma io sono abbastanza convinto che è del livello di bastoni. Detto questo, invece, sulla partita volevi dire altro? Vogliamo entrare sui temi dei singoli, eccetera? Sì, c'è altro legato a Miretti, quindi era... Ok, vai su Miretti. No, l'opinione è quella di un ottimo giocatore in prospettiva futura. L'unica cosa è che è bravissimo, secondo me, nel proporsi, nell'inserirsi, però negli ultimi metri è veramente troppo o ansioso o, diciamo, timido, passami la parola, perché per gli inserimenti che ha, per le tempistiche con le quali si inserisce, io mi sarei aspettato più gol o assist, è vero che non sta giocando tanto, perché di base è la riserva di Rabioti, però Miretti è poco lucido sotto porta, se migliora sotto quell'aspetto può diventare un giocatore veramente interessante dal punto di vista offensivo, perché secondo me gli manca veramente la freddezza negli ultimi metri e mi verrebbe da dire che gli manca solo quella in questo momento, considerando che comunque stiamo parlando di un 22enne, più o meno. Io ti dico su Miretti, a me non dispiace, non sono d'accordo come sempre, poi si fa il discorso di una pipa, è tutto semplicistico, è tutto riassunto, mi piace come si propone, sono d'accordo sui pregi, la sensazione è che il problema a livello di realizzazione, di concretezza in generale, non sia dato da un'assenza di dosi balisti che comunque non sono eccellenti, non è che al tiro di Stankovic sicuramente, però mi sembra più limitato dal punto di vista dei tempi di gioco e delle scelte, cioè secondo me sbaglia spesso e volentieri nella scelta e nell'applicazione di questa, cioè fa fatica in questo, deve fare quello scatto lì che non è scontato, insomma vedremo se ci riuscirà, però ecco, secondo me è quello che gli manca e non è poco, però la cosa interessante della Juve di ieri è che ti manca Rabiot e si è sentito tantissimo, secondo me la sua assenza, perché è un giocatore che ti porta palo, è un giocatore totalmente diverso da Miretti, la cosa positiva è che con un giocatore con caratteristiche completamente diverse comunque sei riuscito un po' ad adattarti a fare un tipo di gioco diverso, cioè la Juve non ha giocato come gioca sempre, ha giocato per via centrale, ha avuto più una partita di palleggio che di transizione classica, avanzamento palla al piede, perché i giocatori che poi ti potevano portare la palla stavano più che altro sulla parte destra del campo con il rientro di Gatti, come dicevamo l'altra volta, ma anche lo stesso McKennie e poi gli esterni, ok? Mentre centralmente c'erano più degli scambi tecnici con Ildiz e Miretti, con Vlaovic che comunque in questo senso è stato molto coinvolto e in questo senso, come dicevamo nell'ultima live, sta migliorando molto, cioè Vlaovic anche in questo è secondo me anche dato dalla fiducia, perché chiaramente se sei in fiducia sei più tranquillo, cioè poi ha sbagliato anche ieri un paio di appoggi, un paio di giocate di quel tipo, però è molto più pulito ultimamente. E a proposito di questo, ti chiedo, al di là dei gol, che comunque credo siano tipo sei nelle ultime cinque partite, sei gol e due assist nelle ultime cinque, comunque rendimento positivo e sono cinque nelle ultime tre comunque, numeri importanti. Secondo te il miglioramento è causato da Ildiz, cioè nel momento in cui dovesse tornare chiesa titolare? Vlaovic subirebbe un peggioramento delle prestazioni oppure Ildiz è uno dei tanti fattori minimi del suo miglioramento? Un po' una via di mezzo, cioè Vlaovic già di su appunto è un giocatore un po' altalenante, è poi ancora giovane, quindi questa cosa la può limare molto nel corso dei mesi e degli anni. Però io credo che Ildiz sia una componente fondamentale in questo percorso che Vlaovic sta vivendo, in questa fase ottima di rendimento, come hai detto giustamente te, gol a parte. Per me nel parco attaccanti che ha la Juventus è il miglior compagno per le caratteristiche di Vlaovic, intendo Ildiz, perché lega il gioco, non è chiesa dal punto di vista del dribbling, anche se comunque è una caratteristica che possiede, però è proprio un fatto che Ildiz fa da collante tra centrocampo e attacco, quindi Vlaovic. È un giocatore che riesce anche ad allargarsi, però non lo fa gestando i piedi ad esempio a Kostic, come invece può fare Chiesa. Io paradossalmente Chiesa lo vedo meglio con Milik, che è il vero e proprio centravanti Boa, cosa che Vlaovic non è, perché comunque le caratteristiche sono diverse. Vlaovic è forte fisicamente, però non ha quella postura che ha Milik. Quindi secondo me le coppie dovrebbero essere Chiesa-Milik e Ildiz-Vlaovic, però è chiaro che dal momento in cui hai Federico Chiesa, che è al top della condizione, perché in questo momento non è al top della condizione, a parte ieri non c'è stato, ma anche contro il Sassuolo, è rientrato a un periodo in cui ha avuto qualche noia muscolare, qualche problema fisico, e a quel punto lo metti, perché secondo me questi giocatori vanno semplicemente schierati quando li hai a disposizione e quando stanno bene. Però è chiaro che in questo momento Ildiz dà più garanzie e con Vlaovic la coppia funziona. Comunque Ildiz in generale lo vedo anche più facile da accoppiare ad uno tra Vlaovic e Milik proprio, perché comunque anche a Frosinone ha giocato Milik, se non erro, dal primo minuto con Ildiz, e i due si sono trovati. Quindi lo vedo proprio più portato a collaborare a livello offensivo rispetto a Chiesa, che comunque è un solista a volte. Questo è evidente. Cosumiretti ci si esprime in questo modo. Volevo dire una cosa sul discorso economico che ha tirato fuori anche Giacomo in chat. Secondo me, ora la Juventus arriva ad affrontare diversi temi quest'estate e deve prendere delle scelte, deve fare delle scelte. Una di queste magari ne parleremo più avanti. Ma la più importante è quella di Chiesa. Cioè Chiesa, io sono d'accordo con quello che si leggeva negli ultimi giorni, credo di averlo letto da Agresti. Cioè la strategia della società è o rinnova oppure lo cedi. Che deve essere per forza così immediatamente, non puoi aspettare, anzi, sei pure in ritardo, per quelli che dovrebbero essere i tempi, però ci sta perché comunque la dirigenza nuova è subendata quest'anno, eccetera, eccetera. Però è così, questa estate devi decidere cosa fare con Chiesa, perché o lo rinnovi oppure inevitabilmente devi lasciare perché poi se no ti ritrovi in quella situazione di ricatto da parte degli agenti, anzi, ripeto, sei già in ritardo, però, e questa è una scelta. Le altre sono sugli altri giovani che rientrano, quindi su Sule, eccetera. La Juve dovrà cambiare il modo di giocare perché non lo vedo Sule in questo modulo, ad esempio. Quindi ci saranno varie scelte da fare, dovrà essere brava a barcamenarsi in questo senso e Ale ci fa l'assist da questo punto di vista perché ci parla di cambiasso ed effettivamente un altro da citare sotto l'aspetto della partita di ieri è cambiasso, che è stato uno dei migliori in campo ancora una volta, mi verrebbe da dire. E dico di più, secondo me ancora più di Hildiz, lui è il giocatore rivelazione della stagione della Juve, e lo spiego, perché Hildiz è chiaro che in prospettiva è un giocatore superiore, è tutto, e poi chiaramente è un giocatore emergente, nel senso che non aveva mai giocato tra i professionisti. Però, se bene o male conosci comunque, se conoscevi la sua storia, sapevi anche quanto se ne parlasse bene dei tempi del Bayern, quanto avesse fatto bene l'anno scorso, sia nell'ambito nazionale che in quello continentale, perché ha fatto bene anche nella Juve League, bene o male ti aspettavi comunque un giocatore di talento e un giocatore forte, magari non così tanto forte, perché è stato lanciato di fatto come titolare, in questo momento sta facendo il titolare della Juve, e lo sta facendo da altri livelli, nonostante ieri comunque non abbia fatto una partita splendida, comunque ha fatto una partita da sei, ecco, però è comunque, cioè ad esempio nell'azione del gol di Vlaovic, il primo gol, lui fa un controllo che è fuori dal normale, dal giocatore normale, e con quel controllo fa il gol. Ma cambiaso sinceramente, poi magari è una mancanza mia, non mi sarei mai aspettato di vederlo a questo livello, ha ancora più di Hildiz, è una sorpresa per quanto mi riguarda, è una rivelazione in questo senso, ed è un giocatore che sorprende ogni partita di più, che riesce a giocare in mezzo al campo, che ti gioca a destra e a sinistra, e sono d'accordo, allora, non so se è titolare, però sicuramente uno dei, cioè, anche perché nell'ottica dei, ormai il titolare si deve ragionare anche su più, chiaramente, giocatori, non so, semplicemente 11 giocatori, perché poi le giochi tutte con i cambi, eccetera, sei un giocatore che è un titolare di fatto, per cui sicuramente deve essere una pedina fondamentale, sarà probabilmente una pedina fondamentale per gli europei, una chiamata sarebbe meritatissima, vedremo già a marzo, credo, se ci sarà prima pausa, se verrà chiamato, ma immagino di sì, in realtà già nell'ultimo era stato chiamato, però non era stato impiegato, mi sa che non avevo giocato però, per l'ombra di... dovrebbe giocare 4-2-3-1 il prossimo anno, questa è, diciamo, più una speranza di molti tifosi, che è una cosa vicina alla realtà, però, secondo me, nel senso che non so quanto Max voglia in questo momento uscire dalla sua comfort zone del 3-5-2, però vediamo, può essere. Se sta cucinando bene così, non vedo perché dovrebbe cambiare ricetta, però. L'anno prossimo con Pep ci divertiamo, ecco, questo è uno scenario ancora più fantasioso, secondo me, secondo me è Max Allegri, è stato confermato dopo due stagioni disastrose, non credo che dopo questa verrà, diciamo, cambiato, non credo che salterà la sua panchina. E a proposito di questo, comunque, una piccola statistica la diamo, ieri è arrivata a 300 vittorie in Serie A, più di lui solo Trapattoni 302, Neoreo Rocco 352. Sono numeri senza senso, chiaramente, per quanto riguarda lo status dell'allenatore, sinceramente, anche nel momento più buio, anche nel momento in cui pensavo dovesse essere esonerato, non l'ho mai messo in discussione, e su questo penso che, insomma, siamo abbastanza d'accordo. Non credevo, però, che sarebbe mai riuscito ad arrivare, a rimettere, intanto salutiamo Gio, non credevo che sarebbe mai riuscito a rimettere in piedi la Juve e a rimettersi in piedi lui, in un certo senso, dopo questi due anni, ed è per questo che pubblicamente, visto che io sono l'uomo del chiedere scusa, chiedo scusa a Max Allegri. Ufficialmente, oggi, in data 22.01, tocca chiedere scusa, oggettivamente è così. Mi sono sbagliato, dovrò inviare lettera di scuse, vediamo se verrò riaccettato nel popolo allegriano. Ma sì. Ma sì. Detto questo, caro il mio Gioacchino, questa vittoria della Juventus, che va in testa momentaneamente, nonostante abbia virtualmente l'Inter sia ancora prima, mette psicologicamente l'Inter più in difficoltà, oppure no, oppure addirittura il contrario, cioè l'Inter rincorrendo, potrebbe addirittura essere più, rincorrendo virtualmente, chiaramente, perché poi, ripeto, ha una partita in meno, però potrebbe essere ancora più stimolata e mentalmente concentrata, rispetto all'essere prima, dove magari ti vengono le vertigini, non lo so, oppure a prescindere da tutto, comunque è una squadra così forte, così sicura di sé, che questi discorsi, comunque sono discorsi nostri, dei stupidi, e in realtà l'Inter non si farà condizionare. Come la vedi? No, secondo me l'Inter rimane forte, rimane consapevole, rimane solida, ecco sotto questo punto di vista qui, però è chiaro che, a livello psicologico, tenendo conto anche un po' le precedenti e il passato, come dicevo tra l'altro anche un po' di tempo fa, l'Inter, comunque a differenza della Juventus, sa che questo obiettivo non può permettersi di lasciarselo sfuggire. L'Inter ha approcciato, iniziato questa stagione, non nascondendosi tra l'altro anche poi a livello comunicativo, perché diciamo che tutti i riferimenti poi della società, comunque partendo da Marotta, passando per Inzaghi, e anche poi i stessi calciatori chiaramente non hanno mai messo in, diciamo, hanno sempre evidenziato come di fatto l'obiettivo principale, se non unico, di questa stagione per l'Inter fosse il campionato. Quindi sempre ricollegandomi un po' a quello che dicevo qualche settimana fa, comunque un po' di tempo fa, è chiaro che man mano che la stagione prosegue, è chiaro che il pallone comincia a pesare un poco di più, le partite iniziano ad avere un'importanza superiore, chiaramente, e diciamo ecco, dal punto di vista nero-azzurro, è chiaro che più tu ti avvicini all'obiettivo, più diciamo che aumenta in maniera, secondo me, automatica la paura che questo obiettivo possa sfuggirti. e al di là poi dopo del rispetto nei confronti della Juventus in quanto avversaria, io sinceramente credo, credo che anche anche in casa Inter non si aspettassero di vedere una Juventus così pronta, o comunque che arrivasse già a questo punto della stagione, con diciamo ecco con tutte queste avendo accumulato queste certezze, avendo accumulato questi punti, cioè avendo acquistato una credibilità anche nel 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 medio-lungo termine, quindi diciamo tenendo conto anche di quella che può essere la parabola che ci accompagnerà fino alla fine della stagione, io non non penso che ecco che si aspettassero questa una Juventus così pronta è così forte, è così diciamo di fatto in grado a questo punto di poter dare del filo alla torce fino alla fine, quindi questo a livello psicologico un pochino potrà 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 influire e è chiaro che ora cambia anche la classifica, no? cambia la classifica e quindi ieri sentivo sentivo Borghi che diceva faceva questo ragionamento mi pareva fosse lui l'Inter comunque non è molto lontana come rendimento e come punti fatti anzi come punti fatti non ho un'idea però credo siano lì con il Napoli dell'anno scorso per cui a un certo punto quando è un rendimento del genere e invece di avere fatto il solco come il Napoli ti ritrovi la squadra che addirittura è addirittura con una squadra davanti capisci che è una cosa difficile da accettare e quindi è sì diciamo che può subentrare un po' di frustrazione un po' di frustrazione perché ti rendi conto che stai cioè stai facendo anche più magari di quello che in alcuni casi sarebbe necessario per arrivare poi a vincere il campionato alla fine perché è così è vero l'Inter sta ma anche anche al di là dopo del percorso io penso che anche anche proprio i segnali che ha lanciato e che sta lanciando il modo in cui è arrivata a vincere la maggior parte delle partite richiamano e hanno richiamato un po' la potenza e l'ingiocabilità del Napoli dello scorso anno quindi anche anche proprio nella modalità delle di una buona parte delle vittorie dell'Inter di quest'anno c'è secondo me c'è secondo me questo parallelismo che si può fare poi poi sì ripeto il fattore psicologico per me è quello che conta più di di ogni altra cosa e la Juventus nonostante sia una squadra ecco qua paradossalmente abituata a vincere ogni anno è una squadra che non vince comunque lo scudetto da un po' insomma quindi voglio dire dovrebbe in teoria essere dovrebbe in teoria al netto delle difficoltà che ha avuto del tunnel insomma dal quale è dovuta uscire che conosciamo bene che sappiamo bene e rimane comunque una squadra ecco che mancando all'appuntamento con la vittoria da così tanto tempo dovrebbe avere se non le stesse pressioni che all'Inter comunque dovrebbe avere qualche pressione nel momento in cui di fatto diventa concreta la possibilità di poter tornare a vincere il campionato e Allegri secondo me fino a questo momento è stato molto bravo come il suo solito tra l'altro a livello comunicativo quindi comunque ad alleggerire ecco anche un po' diciamo tutto il contesto e quindi la pressione le pressioni principali sono dalla parte dell'Inter e dalla parte di Inzaghi perché anche qui il confronto tra i due allenatori Inzaghi che comunque ha dimostrato di essere un allenatore preparatissimo di livello però il campionato non l'ha ancora vinto e quando ha avuto la possibilità di vincerlo lo ha perso ecco vorrei evitare di ricordare come lo ha perso però lo sappiamo bene quindi dall'altro lato invece c'è l'inzaghi un allenatore navigato un allenatore esperto un allenatore che ha vinto tanto tra i più vincenti comunque la storia del calcio italiano quindi anche questo poi dopo nel momento topico potrebbe pesare detto questo poi l'Inter come valori la Juventus sta facendo sta andando molto oltre a questo punto quelle che erano le aspettative e quella che è la sua dimensione il suo valore assoluto l'Inter però rimane una squadra che è comunque più forte superiore che veramente ieri ad esempio è stata proprio un rullo compressore sì ieri ad esempio si ragionava cioè ragionavo sul fatto che il centrocampo è la forza dell'Inter è il reparto più forte e a un certo punto comunque la Juventus va bene che li stia valorizzando e stanno giocando bene e tutto però a un certo punto la Juve stava giocando con cioè a un certo punto i titolari ieri della Juventus erano McKennie Rocatelli Miretti che non so chi di questi giocherebbe nell'Inter anzi risposta nessuno per cui titolare perlomeno per cui il discorso è questo per il resto comunque noi facciamo un'analisi su Vlau che ci vuole che ci vuole può essere il motivo per il quale lui sta rendendo bene Yildiz con chiese come si trova in realtà chiaramente la soluzione del web è che si è fidanzato quindi questa è la grande soluzione e chiaramente Alessandro Drago la sposa immediatamente poiché non lo diciamo però vabbè lo sanno tutti lo sanno tutti detto questo prima di chiudere la parentesi Juve-Lecce anzi Lecce-Juve due parole su Lecce vanno fatte il Lecce secondo me non ha fatto nemmeno una brutta partita la prima ora di gioco non è stata anzi si è giocata alla grande secondo me per quelli che sono i suoi mezzi chiaramente per il dislivello che c'è con la Juve ma mi dà sempre la sensazione di essere una squadra chiaramente per quelli che sono i propri obiettivi alla quale manca il centesimo per fare l'euro va sempre in difficoltà su alcuni aspetti non lo so sui quali in teoria si potrebbe lavorare facilmente e in particolare in questo momento in cui gli sta mancando sta emergendo come la squadra sembri un po' banda dipendente in un certo senso o meglio lo si è diventata con l'arrivo di D'Aversa che ha strutturato in un certo modo la squadra il suo modo di giocare diciamo estromettendo ieri è stato l'ennesima conferma di quanto sia fuori dal suo gioco strefezza e faccio un appello per tutti i fanta allenatori di strefezza strefezza per favore vattene questo è un appello vai via vai a giocare da qualche altra parte perché è evidente che sia una questione di caratteristiche e non di livello del giocatore perché è paresemente il giocatore più forte della squadra per quanto mi riguarda però l'anno scorso è stato il miglior assist ma il miglior marcatore non è che improvvisamente diventi scarso semplicemente cambia il modo di giocare completamente ed è totalmente fuori dagli schemi di di traversa sì tra l'altro anche in questo momento in cui non c'è banda lui comunque non è riuscito non è proprio messo non l'ha proprio messo è proprio superato da chiunque nelle gerarchie per cui e poi io sono d'accordo con Ale Dorgo e Gendrè sono due terzine da grandi squadre sono molto interessanti Gendrè l'avevamo segnalato l'anno scorso quando è arrivato in Serie A o meglio l'avevamo non mi prendo meriti che non ho l'aveva segnalato il buon il buon Gian Gibar chiamiamolo col nickname la garanzia nel suo classico articolo di inizio anno sui giocatori da tenere d'occhio quindi attenzione Dorgo invece chiaramente sta emergendo più quest'anno perché l'anno scorso giocava in primavera se non erro che ha vinto pure il campionato non vedi una stupidata